no si pensate in questo nuovo video di oggi non fa una pronti scopi sui miei amici dj jova iron baguette salutate nella rega allora dove andiamo qua lo va bene posso trompi ok almeno vieni che aveva un sparo che aveva un sparo ahahah andiamo a baci dai andiamo chi è che essendo gli altri? non so è uno a caso è uno a caso lo spegniamo oh si come si fa? non so ma perché vi siete buttati? che dovevamo andare allo squalo? è un puntato a lago ma vabbè non lo so buono vieni con me bu e se oggi è tornato che piace coltiamo no oggi non giochiamo io non gioco devo andare via le 5 e le 4 perché devo andare a nuoto che lupo non ti guardi il coso guarda lì secondo me c'è le 8 se c'è le 8 buono se non c'è le 8 god è già morto che cazzo? bravo ma che cazzo? ma che cazzo? ma hai trovato lo space questo no ma cosa stai dicendo? no non 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 vecchio ho trovato lo spasso godo godo e adesso me lo tengo io sì io non c'è neanche il pompo e a me mi sparono da non sofficare oh bollo bollo ti pregwendo sto corriendo ecco 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 14 mi è arrivato in bocca morto sulla ciotto che nella serata no ma mi ha distrutto il lanciarazze per spasso no guarda che buono lanciarazze sì sì bello bello ti entro ti entro grazie io ci provo beh se avete razzi datemi lo prendo io se vuoi no no strano che quello che dicevo beh strano e l'altra gente ha giocato ora ce n'ho un'altra ho dato anch'io tu c'è cambaro e l'altro anche qua sopra e l'altro anche qua sopra tu c'è cambaro no se hai scelta me si è scelta me si è scelta me si è scelta me si è scelta oh si è scelta codo no ah io che ero ma che da no allora 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 per così che sono trovato sì è qua vai qua eh e niente buono dai per cui hai detto una cosa e ne hai fatto un'altra wow questo spasino così che bello dai da un momento non mi dici non ti accorgi sei scei non me ne so neanche accorto che c'era uno io sono stato zitto a vedere cosa facevi c'è croce cantata dalla cambia di alpare scelabri no no via 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 ho scendini alle lunghe buono cazzo cazzo guarda che lo scarabino down down ah perchè perchè lo spasso non è buono vuoi dire sì che buon però è tutto 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 ci prende tutto però ce ne ero un altro regalo quello che lo sento è questo posso città è qui guarda guarda poi mi fa 200 ti accorgi non mi dovrebbe sbagliare dio no 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 l'altro gli fa 200 noi li lasciamo rire e poi ci prendo Ma me ne sbatto le palle, io mi guarda. Solo per uno spazio ho trovato. Sai quante volte hai trovato la roba che volevo e non l'hai dato qui. Oggi tengo io. Guarda sei forte. Eh lo so. Questo è il trucco, saperlo. Ah la cesta è mia. Vamos. Fai forte. Grazie grazie. Prego, prego. 200 di scelta. Mettiamo di scudo perchè lo vuole. Spero che io vado a brughiere. Chi vuol fare il rocket trade? Io. Spero che ci muori. Grazie però. Spero che mi esplodi il razzo in faccia. No. Voglio ridere. Dai fatelo. Quanto c'è schiata giovane in casa. Ehi fate, chi no, non voglio fregarvi anche niente. Oh ragazzi aspettate, lasciatelo fare stile libero. Ma che c'è fortissimo? No, me lo dicono anche a me. Lasciatelo fare stile libero. Mamma mia, guarda che stile. Guarda che stile. E niente. Lo so di si amare di un troppo stile. Guarda di un stile troppo stiloso. No valla, non c'è neanche uno te. Corte qui. Sa bene io come si muore. Ehi. Mia mamma mi so bene come si muore. Anche io se. Se è per questo. Ma mia mamma andassi di Giove. Se è per questo anche io non si muore. E che poi andate ti fai in azione. Anch'io. Bravo. È vero? c'era c'era anch'io giovedere anche il volo non ci crede ma si dice bene buono giorno doveva farlo che tra i di fanno che dai no no fa cura io la faccia fatta volo ora che segni ti puoi trasformare che c'è la sua stuola ecco la c'era zio lo prendo io ma perché stanno andando già colpire perché no giovane urad e mamma io c'ho vede sul sul ciò che cazzo sparo c'ho i razzbol no ma che cazzo un ragazzo è uno scagnozzo io so bene come prendermi tutte le munizioni attenzione lo scagnozzo che spara alle casse a casa a casa dato un po' di ferro 326 la settanta non me ne dai che quelli la figura allora si no container qui sei a conto di dare contento da 10 di ferro il container ma che cazzo me ne frega me diciamo ci sto container perché quanto ti serve per far cosa ormai glielo dice te di mamma ecco avevo 48 sono arrivato alla 50 giù si è forte giova se mi spari all'indicotto ttp doma giova fa sempre così no io sono già full prendi di te mette colpi cieco buca ti godo dove cazzo l'hai lasciato ma che cazzo cosa l'elicottero dov'è che ricarte in mezzo al tuo caso è da inizio game che sta è da inizio game che sta è un parcheggio per l'elicottero parcheggio si non so se è un parcheggio io io ho due flop e allora dammeli ma che ce l'ho io e se non volessi dartle e se tu venissi qua io riprendo il mio elicottero e se tu venissi qua vai si prendilo per andare in safe vieni mi chasse zone bene vieni ci vuole ce l'ho da stesito dai dai lasciamo qua giovanni questo tossone io abbiamo asfaltato ce l'ho ma nini mi ha volato la fama valla valla vai sciogli giugno giova che cambia posto per non farsi cecchionare chiesto vanno di merda poi non so dove andiamo da lerdo ma andiamo questo dove la colori deve messo ping subito ovviamente dall'uomo di tubi il valo di speri che l'hanno già aperto e la persona travo giova tutto 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 no l'elicottero dove dovete fare un parcheggio posteri per fare cambio spas per tac ma c'è la pompa ma spas per tac ciste vedi giù allora seriù eh niente si vieni 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 andiamo a prenderne l'altro coso che ci troviamo in spasano e se lo prende easy che giova si prende il sacco e giova va che ci sono andiamo a prender l'ardo va bene io vado a prender l'ardo sono cazzi di giova se non viene giova vieni vai ciao ciao giova allora ciao ciao e dici vai vai io ho un r verde io ho un r un famous blu adesso ci troviamo uno scaroro che me lo tengo io ah buono e la metà rite decente almeno blu me lo dai? si si arrivo grazie grazie si si wow ma easy muori ma come? ma scusa vabbè praticamente più o meno speravo che morissi per prendermi l'altro però va bene spasano l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto giova 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 c'è una spaz viola giova giova no giova per tecno cosa leggendario aspetta mi sto volando sto volando sto volando sto volando merdè ecco lo spasciaro però me lo stavo prendendo io eh e l'ho preso io invece fuori in culo beh stai qua ci rimango sempre in culato io mi sento in culato neanche tanto però ma va a fare in culo me lo tengo io la mia figlia a casa tua va a fa culo che è anche qua guarda guarda non funziona se ci sono io il show guarda 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 non funziona se ci sono io il show guarda